L'opera che ho presentato qui a Door to Door fa parte di un progetto titolato Another Time, Another Place. Questo titolo in italiano significa un altro tempo, un altro posto. È un progetto su cui lavoro da alcuni mesi e quindi quando mi hanno chiesto di produrre un lavoro per la città di Salerno ho scelto le grate di Palazzo Davossa che li trovo particolarmente interessanti per realizzare questa mia idea che consiste nell'aver inserito quattro alberi di olivo in queste grate di cui la parte del tronco finale delle radici è all'interno del palazzo. L'altra parte, quella delle foglie e dei rami, affaccia sul vicolo antistante in via Botteghelle. Quest'installazione rappresenta il percorso deviato delle cose, no? La nostra esistenza ha naturalmente, ha sempre avuto un percorso, diciamo, naturale. Oggi il percorso naturale delle cose è invece inesorabilmente deviato, quindi non c'è una distruzione delle cose a cui segue una rinascita. Grazie. 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 Grazie.